Xur in 60 secondi, lo trovate nella zona morta europea, vediamo cosa vende. L'arma della settimana è la lente di prometeo, un fucile laser veramente devastante in pvp, vi avverto però che l'arma è buggata quindi Bungie la patcherà al più presto. Per il cacciatore abbiamo l'ombra del drago, un pezzo esotico che ci aumenta la velocità di movimento e la maneggevolezza dell'arma per breve tempo dopo una schivata, non è male come pezzo ma secondo me ce ne sono dei migliori per il cacciatore. Per lo stregone abbiamo il peccato di Nezarek, un casco esotico che ci permette di aumentare la velocità di ricarica delle abilità effettuando uccisioni da vuoto, un pezzo consigliato per tutti i camminatori del vuoto. Infine per il titano abbiamo la new entry MK44 fate largo direttamente dal primo Destiny, un pezzo che ci fornisce uno scudo aggiuntivo quando si scatta con salute piena e con assalto sismico, assalto martellante o scudo travolgente attivati. Non ho avuto ancora l'occasione di provarli in Destiny 2 ma credo che potrebbero essere una piacevole sorpresa. Grazie. Grazie.